In musica il termine abbellimento indica l'aggiunta di alcune note ad una melodia con lo scopo di ornarla ed arricchirla. Era prassi nel barocco che gli esecutori improvvisassero gli abbellimenti sulle melodie per dimostrare la loro bravura come strumentisti. In questo spartito, il minuetto numero 1 in sol maggiore di Johann Sebastian Bach, gli abbellimenti sono indicati con questi segni che sono posti sopra le note. In particolare questi segni indicano un due mordenti e un'acciaccatura. Andiamo ora ad ascoltare il minuetto eseguito dapprima senza abbellimenti e poi con gli abbellimenti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.